Ecco 30 frasi brevi in italiano di livello B1 che possono essere utili durante la spesa. 1. Dove posso trovare il pane fresco? 2. Quanto costa questo prodotto? 3. Avete delle offerte speciali oggi? 4. Potrei avere un sacchetto per favore? 5. C'è una sezione di prodotti biologici? 6. Dove si trovano i biscotti? 7. Avete del latte senza lattosio? 8. Posso pagare con la carta di credito? 9. Qual è la scadenza di questo prodotto? 10. Vorrei mezzo chilo di mele, per favore. 11. Avete delle fragole fresche? 12. Dove posso trovare il riso integrale? 13. C'è un reparto di prodotti senza glutine? 14. Vorrei un etto di prosciutto cotto, per favore. 15. Potrei assaggiare questo formaggio? 16. A che ora aprite domani? 17. Qual è il prezzo al chilo delle banane? 18. Dove si trovano le casse automatiche? 19. Avete borse riutilizzabili? 20. Potrei avere lo scontrino, per favore. 21. Dove posso trovare le spezie? 22. Ci sono sconti questa settimana? 23. Avete pesce fresco oggi? 24. Vorrei un litro di olio d'oliva, per favore. 25. Dove posso trovare la pasta integrale? 26. C'è una sezione di prodotti locali? 27. Potrei avere una cassa d'acqua frizzante? 28. Qual è il reparto delle bevande? 29. Avete del burro vegetale? 30. Potrei avere delle uova biologiche, per favore? 29. Queste frasi ti aiuteranno a fare la spesa in modo più facile e chiaro. 30. Buona spesa! 31. Buona spesa! 32. Buona spesa! Grazie a tutti. Grazie a tutti.